I carabinieri della compagnia di Paternò, supportati dal XII Battaglione Sicilia, hanno arrestato un uomo di 77 anni, cacciatore, per detenzione illegale di armi e munizioni. Le attività di controllo effettuate in contrada Schettino a Paternò hanno interessato diversi casolari di campagna e in uno di questi, di proprietà dell'uomo, i militari hanno rinvenuto sparse sul terreno numerose cartucce di fucile calibro 12 già esplose e inoltre un fucile monocanna semiautomatico marca Breda calibro 12 con matricola Brasa e 16 cartucce pallini calibro 12. Il fucile pronto all'uso in ottimo stato di manutenzione è risultato illegalmente detenuto dal proprietario del fondo agricolo, il quale non ha saputo fornire alcuna spiegazione in merito alla presenza di quell'arma. Sia il terreno che i ruderi erano recintati e chiusi con dei lucchetti, le cui cavi erano in esclusivo possesso dell'uomo che quindi è stato arrestato, mentre l'arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati per essere successivamente sottoposte presso il RIS di Messina agli accertamenti tecnici di laboratorio, soprattutto al fine di verificare se il fucile sia mai stato utilizzato in fatti delittuosi.